Anche noi con il nostro reparto ovviamente siamo stati coinvolti in questa battaglia che stiamo conducendo ormai da un paio di mesi contro questa pandemia e naturalmente questo ha portato a dei cambiamenti nel nostro modo di agire, di pensare e anche di rapportarci con i malati. La cosa importante che come medicina interna abbiamo fatto è stata innanzitutto quella di dare un supporto ai colleghi che sono direttamente impegnati con i malati cosiddetti Covid e questo l'abbiamo fatto sia inviando proprio delle unità che lavorano con i colleghi pneumologi e infittivologi ma anche mantenendo un'alta pressione in reparto garantendo un turnover molto accelerato dei pazienti così da avere sempre una buona disponibilità di posti letto. È chiaro che l'attenzione c'è, ognuno di noi ha delle ansie, anche delle paure che sono umane e anche noi operatori che siamo così in prima linea, in trincea come si sente dire in questi giorni non possiamo negare che delle paure le abbiamo però questo forse serve anche a darci più carica, più impegno, più energia, più motivazioni e naturalmente sperando che tutto questo che abbiamo messo in campo e devo dire che la regione toscana, la nostra azienda, si sono mosse anche sfruttando quelle che purtroppo sono state delle esperienze pesanti che sono state fatte per esempio in Lombardia ecco tutta questa organizzazione ha fatto sì che effettivamente al momento questa valanga quel pericolo della valanga sia stato direi molto ben contenuto ancora il livello di guardia non si abbassa naturalmente noi come internisti siamo disponibili a qualsiasi altra forma di collaborazione dovesse venire fuori nel prossimo futuro ma come noi facciamo la nostra parte, ecco l'appello è che ognuno faccia la sua mantenendo tutte quelle norme, quelle precauzioni delle quali sentiamo parlare di continuo e che, ecco questo vorrei che non fosse sottovalutato, sono assolutamente importanti sono un'altra barriera fondamentale per creare un ostacolo e per vincere quindi questa battaglia che stiamo combattendo tutti insieme